Studenti che si prendono cura di un familiare invalido non pagheranno le tasse. L'Università di Cagliari tutela così il diritto allo studio in tempi di emergenza Covid. Alice Monni. Niente tasse universitarie per gli studenti e le studentesse dell'Università di Cagliari che assistono un familiare invalido. Lo ha deliberato il Senato accademico introducendo un nuovo caso di esenzione totale per i caregiver, cioè chi si prende cura di un familiare invalido riconosciuto, dunque bisognoso di assistenza globale, continua e di lunga durata. Su questo punto non c'è una normativa dettagliata nazionale, ma l'Ateneo ha approvato comunque l'esenzione perché è in linea con le altre iniziative assunte per gestire la crisi economica e sociale causata dall'emergenza Covid-19 e con le direttive del Ministero dell'Università e Ricerche e del Governo. Da sempre l'Università di Cagliari è attenta ai temi legati al diritto allo studio, ha detto il Rettore Maria Del Zompo, è quello che facciamo anche con questa iniziativa non tenendo conto solo del reddito degli studenti ma anche delle condizioni di contesto familiare e sociale. Un'iniziativa apprezzata e condivisa anche dal Ministro dell'Università e Ricerca Gaetano Manfredi, un'azione in linea con le politiche sul diritto allo studio già intraprese dal Ministero, ha scritto sui social, abbattere le differenze sociali e non lasciare indietro nessuno, oggi è possibile. L'Università di Cagliari negli anni scorsi aveva già esteso la no tax area oltre i limiti di reddito previsti dal Governo per ampliare il numero di beneficiari di agevolazioni e in generale il diritto allo studio.